L'aumento dei casi positivi da Covid-19 in provincia di Teramo ha messo in allarme l'Azle che sta lavorando per dare una risposta all'emergenza. L'unità di crisi non ha ancora deciso quale sarà il secondo ospedale Covid dopo il Mazzini in provincia. Una decisione posticipata perché per il momento i malati teramani che non troveranno posto potranno essere ricoverati a Pescara. Ma una scelta in caso di necessità dovrà essere fatta e su questo fronte è scoppiata la polemica tra Atri e Giulianova. Nessuna delle due amministrazioni vuole un ospedale Covid sul proprio territorio, tanto che ad esempio il sindaco Costantini ha minacciato anche esposti alla procura. Io non credo che ci sia un ballottaggio, ma credo che ci sia una delibera che già identifichi l'ospedale di Atri. Non dobbiamo fare campanilismo politico quando c'è di mezzo la salute dei cittadini. È evidente che l'ospedale di Giulianova, che ha una carenza fisiologica, mancano 14 medici, non ha macchinari e attrezzature, in questo momento non è possibile all'interno di quella struttura ospitare un ospedale Covid. Oltretutto c'è da fare una considerazione. Atri è stato il migliore ospedale Covid della regione Abruzzo e lo dice l'assessore Veri. Quindi non vedo per quale motivo un ospedale che ha fatto il suo dovere, che è riuscito a dare delle risposte importanti in un momento d'emergenza, oggi deve essere smantellato e dobbiamo andare a toccare una macchina perfetta. Oltretutto dico che la città di Giulianova ha già svolto il suo compito, con l'RSA lo sta continuando a svolgere il Biobellocchio, dove ci sono addirittura circa 30 persone ricoverate. Lei ha annunciato che se la scelta dovesse ricadere su Giulianova sarà pronta a fare degli sposti? Assolutamente sì, perché ci devono spiegare per quale motivo si tocca una macchina perfetta, appunto come l'ospedale di Atri, dove sono stati investiti tantissimi soldi e si viene su un ospedale di Giulianova dove bisogna spendere altri soldi pubblici. Siccome i soldi pubblici non vanno sperperati, ma vanno usati con intelligenza, lo scopo non è chi riesce con il campanilismo politico e con le conoscenze a spostare l'ospedale. Oggi lo scopo è dare un servizio sanitario adeguato e quindi non vediamo per quale motivo. Poi, ripeto, quando a Giulianova ci saranno i 14 medici in pianta organica che mancano, assunti a tempo indeterminato e ci saranno gli investimenti che sono stati fatti sull'ospedale di Atri, noi saremmo pronti anche noi a giocarci questa partita, ma oggi non è possibile.